Ciao a te e bentornato a questa serie di video introduttivi ai video dell'Accademia del Messaggio oggi parleremo degli equalizzatori prima di andare a vedere quanti e quali tipi di equalizzatori esistono sul mercato quindi quali tecnologie esistono in merito agli equalizzatori cerchiamo di capire un attimo prima che cos'è un equalizzatore prima di fare ciò abbiamo bisogno di capire un attimo che cos'è un suono o comunque in breve come percepiamo noi un suono la nostra abilità di percepire un suono in realtà evolve in due mondi distinti e legati se vogliamo tra loro quindi si può trasformare quello che accade in un uno lo si può trasformare e vedere cosa accade nell'altro mondo e appunto questi due mondi sono uno il dominio del tempo e l'altro il dominio delle frequenze la ruolo relazione è stata praticamente diciamo studiata e spiegata da un fisico matematico francese che si chiama Jean-Baptiste Fourier che ha spiegato appunto come funzionava diciamo questo meccanismo la relazione che esisteva tra il dominio del tempo e il dominio della frequenza con una teoria appunto nota con il nome di teoria di Fourier diciamo con una serie di strumenti tra i quali la serie di Fourier famosi per farla breve ovviamente l'argomento è abbastanza complesso quindi cercherò per quanto possibile di essere chiaro diciamo che Fourier che cosa capì? prima di tutto diciamo che cosa significa dominio del tempo? il dominio del tempo è la nostra capacità di capire appunto quanto un segnale è breve o lungo appunto nel tempo, quanto dura nel tempo e quindi diciamo la nostra percezione del dominio del tempo è capire appunto quanto questo segnale sia lungo o corto, veloce quindi un segnale corto lo chiamiamo generalmente transiente un segnale lungo, steady state per prenderla dall'inglese o segnale praticamente costante, stabile Fourier capì che c'era una relazione tra queste due cose in particolare sintetizzando Fourier disse che un qualsiasi segnale qualsiasi sia la sua forma nel dominio del tempo cioè comunque si muove nel dominio del tempo in realtà questo segnale può essere sempre ricostruito sovrapponendo una serie di segnali più semplici una serie infinita che sono le cosiddette sinusoidi ovvero una semplice funzione seno sovrapponendo tutta questa serie di segnali in maniera opportuna è sempre possibile ricostruire un segnale dalla forma qualsiasi quindi un segnale qualsiasi può essere pensato come costituito da una serie di componenti più semplici che sono appunto le frequenze quindi che sono dei segnali sinusoidali semplici un equalizzatore è in grado di manipolare queste singole componenti quindi quando noi diciamo che equalizziamo aumentando i 20 Hz stiamo andando semplicemente ad amplificare il valore del componente sinusoidale appunto che oscilla a 20 Hz quanti tipi di equalizzatori esistono? da un punto di vista diciamo della manovrabilità se vogliamo esistono due tipi essenzialmente un equalizzatore grafico in cui praticamente io posso andare a controllare un numero limitato di frequenze definito appunto dal produttore dell'equalizzatore in questo caso 16 frequenze manipolabili in quelli più grandi generalmente si arriva a un massimo di 31 bande ovvero equalizzatori a terzo di ottava perché tutto lo spettro che noi riusciamo a sentire è essenzialmente grande 10 ottave quindi mettendo 30 controlli 31 per la verità feeder noi suddividiamo praticamente tutto il range che noi riusciamo ad udire che va da 20 Hz a 20 kHz a terzi di ottava cioè ogni feeder muove una frequenza più una serie di frequenze adiacenti quindi una serie di componenti frequenziali quindi una serie di sinusoidi che costituiscono il nostro segnale adiacenti oltre a quella che voglio manipolare le muovo contemporaneamente e questo spazio diciamo questo numero di frequenze è largo appunto un terzo di ottava in questo caso ovviamente è un po' più grande di un terzo di ottava sarà che ne so un mezzo di ottava o qualcosa diciamo in più ad ogni modo la differenza è che in un grafico io posso manipolare un numero prefissato di frequenze appunto anche la frequenza è prefissata cioè voglio muovere 2k ok li posso muovere ma se voglio muovere 2k e 5 comunque non posso farlo posso muovere direttamente i 3k e 17 come segnato su queste equalizzature questo è quello grafico abbiamo invece poi un equalizzatore cosiddetto parametrico o semiparametrico a seconda quello parametrico che possibilità ci dà rispetto a quello grafico prima di tutto posso decidere io la frequenza che voglio andare a ritoccare quindi come puoi vedere posso muovermi su tutto lo spettro audio e sono io a decidere quale frequenza voglio equalizzare non sono fissi poi è in questo caso parametrico e non semiparametrico perché posso decidere anche quante altre frequenze vado a coinvolgere oltre a quella che è obiettivo del mio ritocco in questo caso coinvolgo molte frequenze per esempio io qui sto toccando a 1kHz ma in realtà sto coinvolgendo anche i 500Hz e anche i 2kHz perché ho un Q praticamente basso ovvero un fattore di merito basso se invece il fattore di merito è molto alto lo sto stringendo vado a ritoccare quasi esclusivamente la frequenza a 1kHz come puoi vedere questo è un equalizzatore parametrico ovviamente il semiparametrico ti dà la possibilità di muovere o l'uno o l'altro quindi in alcuni semiparametrici magari la frequenza è fissa ma è manipolabile il Q quindi il fattore di merito inoltre e qui entriamo un po' più nel particolare cercherò anche qui di essere il più possibile chiaro esistono due tipi di equalizzatori oltre appunto a quello grafico e al parametrico un equalizzatore può essere distinto per la sua capacità di essere un equalizzatore minimum phase ovvero a fase non lineare e un equalizzatore a fase lineare cerchiamo di capire che cosa significa in un equalizzatore standard generalmente per standard si intende un equalizzatore minimum phase quando io vado a muovere una frequenza quindi la sua amplificazione o il suo decremento dell'amplificazione di quella particolare frequenza in realtà io non muovo solo l'ampiezza di quella frequenza ma muovo anche la sua fase che cosa significa? e non solo la sua fase ma anche quella delle frequenze adiacenti che cosa significa fase? per quanto ti ho detto prima un segnale lo puoi pensare costituito da una serie di mattoncini più semplici che sono appunto le sue componenti frequenziali che sono dei segnali sinusoidali ora immagina per esempio di avere un segnale che è costituito da tre componenti quindi da tre mattoncini e che questi tre componenti che sono dei segnali sinusoidali partano tutte dallo stesso istante quindi da zero immaginiamo ora immagina di amplificare una sola delle componenti e di non toccare le altre due tu sei convinto in quel momento che stai amplificando soltanto quella particolare frequenza e le altre due non le stai toccando in realtà quella operazione di amplificazione in un equalizzatore minimum phase coinvolge anche la relazione temporale che esiste tra quelle frequenze ovvero in particolare quando io amplifico quella determinata componente frequenziale i tre segnali che inizialmente partivano da zero non partiranno più tutti e tre da zero ma magari due uno si sposterà più avanti l'altro più indietro e quello che magari vado a ritoccare resterà a zero e questo è evidenziato da questa curva arancione come vi vedete che cosa significa? significa che io sto boostando cioè aumentando l'amplificazione della frequenza a 1kHz ma contemporaneamente cosa succede? succede che le frequenze superiori a 1kHz vanno in avanti cioè questo nostro 0 ipotetico fissato si sposteranno rispetto ad esso in avanti nel tempo mentre le frequenze inferiori a 1kHz andranno indietro nel tempo quindi ne altero in un certo senso la relazione temporale è udibile questo fenomeno cioè non riusciamo a sentirlo ci sono molti studi fatti in merito alla cosa e ancora ne sono in corso e dalla maggior parte di essi emerge che noi siamo sordi a questa cosa non la sentiamo tuttavia alcuni studiosi insomma ritengono che riusciamo a sentirla in particolari condizioni cioè su certi suoni particolari e quindi molti ritengono che i qualizzatori lineari e quindi a fase lineare sono i non meglio di quelli minimum phase il mio parere è che questa cosa non sia vera e che in realtà siamo sordi alla relazione di fase tra i segnali tant'è che gli equalizzatori storici più famosi con i quali si sono fatti i migliori mix i migliori album della storia della musica ovvero gli equalizzatori hardware sono degli equalizzatori per loro natura a minimum phase e nessuno si è mai lamentato di come funzionava insomma quindi per me è un po' una leggenda quella degli equalizzatori linear phase ad ogni modo in un equalizzatore linear phase invece questa cosa non succede cioè quando io vado a bustare per esempio un kHz la relazione temporale quindi questa curva arancione rimarrebbe fissa una linea dritta cioè non altero la relazione temporale tra le frequenze che costituiscono il segnale ovviamente sia degli equalizzatori minimum phase che linear phase possono esistere versioni parametriche così o versioni grafiche diciamo tant'è vero che per esempio questo è un equalizzatore linear phase grafico così come esiste un equalizzatore linear phase che è questo parametrico ok credo di aver detto insomma tutto quello che c'era da dire per il momento per questo video ti invito a rimanere sintonizzato e quindi a guardare anche il video della settimana prossima che sarà appunto esplorerà invece l'utilizzazione di un equalizzatore all'interno di un messaggio che cosa si fa quindi l'operazione di cut e bust cercando anche di sfatare qualche leggenda in proposito spero che il video ti sia insomma piaciuto e che verrai spesso a trovarci su scuolasuono.it non mi resta insomma che augurarti una buona giornata e ci vediamo alla prossima ciao